Edoardo Oliva è tornato a trovarci perché c'è ancora uno spettacolo teatrale da presentare, tra l'altro che è già stato rappresentato ma che continuerà ad essere rappresentato in un momento anche importante perché coincide con un anniversario importante. Il testo, il mio nome è Gordon Pym, è liberamente ispirato all'unico romanzo di Edgar Allan Poe, la riduzione lirica e poetica è una sintesi dal mio punto di vista bellissima di Roberto Melchiorre, in scena siamo io ed Ezio Budini che è un ritorno al teatro immediato, Ezio Budini ha fondato il teatro immediato, ne siamo felicissimi. Poi c'è la scenografia piena di suggestioni al solido di Francesco Vitelli e poi ci sono anche collaborazioni importanti con registi cinematografici perché questo è uno spettacolo che sintetizza vari linguaggi e grammatiche, quindi Daniele Campea, Francesco Calandra, gli effetti sonori Globster, insomma è una bella squadra quella che ha partorito questo spettacolo ed è uno spettacolo che cerca di restituire quello che Roberto Melchiorre ha chiamato in un suo verso il precipizio dell'umano, cioè questa doppia anima di Gordon Pym che da una parte cerca di assecondare il moto delle onde, quindi inesorabilmente va avanti, cerca sempre una destinazione, comunque sia una meta e dall'altra quella che lo ha contaminato con l'orrore e appunto col precipizio dell'umano, con l'abisso. La letteratura di Edgar Allan Poe non è una letteratura di genere, anche se questo viene un po' considerato come il primo libro, il primo romanzo dell'horror psicologico, un genere che oggi appunto nella cosiddetta letteratura di genere va molto, ci sono esponenti illustri, forse è il settore in cui lo scrittore ha più possibilità di emergere perché la trama si c'è ma scavando nel profondo evidentemente la scrittura ha modo di venire maggiormente fuori e Poe non era sicuramente un autore di genere, è un autore immenso per certi versi. Come non lo è Stephen King, come non lo è Stephen King. Quindi l'occasione per scandagliare l'animo umano dove il viaggio, la nave, la clandestinità, il nafragio, tutti questi archetipi sono un po' la scusa. Sì, è proprio così, infatti noi abbiamo cercato, tra l'altro anche di, senza entrare nelle attualizzazioni, viviamo tempi in cui l'orrore e l'abisso che magari dopo esperienze terrificanti come quelle di guerra mondiale pensavamo appartenessero al passato, invece abbiamo appunto l'orrore alle porte di casa, l'uomo nel suo abisso evidentemente è condannato e quindi è anche condannato a perpetuarlo. Vorrei ricordare, lo spettacolo ha già debuttato ma ci sarà ancora occasione di vederlo, allora ricordiamo gli appuntamenti a partire da domenica, cioè da questa sera in poi. Sì, ci sono state le prime tre repliche sold out, anche oggi abbiamo il tutto esaurito e le prossime repliche sono il 12, il 13 e il 14 maggio, il 12 e il 13 maggio alle 21 e il 14 maggio alle 19, anche lì i posti sono già terminati, quindi restano posti disponibili il 12 e il 13 maggio. Questo è l'ultimo spettacolo di una lunga e bellissima stagione che ha avuto anche tanti momenti diversi, il teatro, la letteratura, la musica, abbiamo anche persino fatto l'Aida nel nostro piccolo spazio in questa periferia di Pescara e questo conclude quindi un primo anno che ci rende molto soddisfatti.